La pagina letteraria a Matera si è conclusa la sedicesima edizione del premio Energei. Allora vediamo a chi sono andati i riconoscimenti. Il piemontese Giorgio Ricci con il racconto L'albero capovolto è il vincitore del premio Energeia 2010. Una storia essenziale e lirica che riesce senza retorica ad evocare le inquietudini del nostro tempo. Così la giuria presieduta da Chiara Ingrao e composta da Laura Durando, Nicola Laggioia, Alessandro Masi e Giorgia Wurt ha motivato la sua scelta. Menzione speciale anche per Rapina le banche di Carolina Crespi, scrittrice di Busto Arsizio, per l'originalità nella ricerca del linguaggio descrittivo. Miglior racconto per la realizzazione di un cortometraggio ex equa Schiavi di Monica Cillerai è L'assassina di Giulia Zanarone, due studentesse liceali di 17 anni di Borgosesia. Tutti i lavori finalisti della sedicesima edizione del premio Energeia saranno raccolti in un'antologia che verrà pubblicata la prossima estate. Nello stesso periodo saranno pronti anche i cortometraggi tratti dai racconti scelti dalla giuria. Il premio Energeia Europe infine è stato attribuito all'Ereve Volè, i sogni rubati della giovane scrittrice libanese Rula Fadel Nabulsi.